Finalmente la permuta che permetterà all'Azio di avere mensa e studentato nella sede dell'ex Carducci in centro storico all'Aquila in realtà, ma non solo, in un sistema strategico che coinvolgerà Comune Università. Un risultato rilevante, così lo ha definito l'assessore regionale quaresimale. La permuta è stata fatta tra l'ex Casa dello Studente in via 20 Settembre e l'ex Scuola Carducci, una sinergia significativa tra Regione Comune e Azzu. Il progetto prevede anche uffici ad annunciare queste novità. L'assessore regionale Pietro Quaresimale appunto, la presidente dell'azienda al diritto agli studi universitari Eliana Morgante, il deputato Luigi Deramo, il vicepresidente dell'Aggiunta Emanuele Imprudente. C'è poi la questione delle sale studio della Campomizzi Chiuse, faccenda per la quale l'Unione degli Universitari nei giorni scorsi ha protestato, dicendo che c'è la volontà di procedere all'assunzione di qualcuno che vigili sul rispetto delle norme Covid, fatto che per loro rallenterebbe tutto. La Morgante però ha chiarito che già la prossima settimana le aule potranno riaprire, ma non solo, ci saranno anche uffici e altre novità. La Carducci, l'ex Carducci ospiterà la mensa e sono riservati alcuni posti per la residenza. E poi in previsione nel nostro programma c'è anche l'acquisto dell'ex clinica universitaria per realizzare gli uffici, per dare uno spazio dignitoso agli uffici dell'Adsu. C'è la questione della Campomizzi, è stata oggetto di polemiche nei giorni scorsi da parte dell'Udo delle sale studio chiuse. Com'è la situazione e quali precisazioni vuole fare in questo senso? Sì, possiamo tranquillizzare gli studenti. C'è un'indicazione, c'è un indirizzo preciso del CDA alla direzione, agli uffici, perché queste sale possano essere riaperte immediatamente. La direzione sta d'intesa con l'RSPP facendo tutti gli accertamenti necessari per legge per rispetto della sicurezza necessaria in questo periodo. Dopodiché spero già la prossima settimana possano riaprire. Dirò di più, abbiamo dato disposizioni anche per la riapertura del bar nella sede del Canada dove ci sono altre sale studio. Inoltre c'è la situazione della Campomizzi che è di proprietà del Demanio. Con la concessione che scadrà a breve, la Morganti ha spiegato che c'è possibilità di una proroga, ma se così non dovesse essere ci sono in campo soluzioni alternative. E poi le borse di studio. Si stanno scorrendo le graduatorie, ha detto l'assessore Quaresimale, con 274 borse di studio a tutti gli eventi di ritto. Siamo in attesa della risposta del Ministero della Difesa, al quale ha fatto precisa richiesta il nostro assessore Quaresimale. Nel frattempo ci stiamo attivando. Se non dovessimo ottenere una proroga, l'Adsu è pronta ad una soluzione alternativa che vede già l'impegno di alcuni enti pubblici, tra i quali l'Ater, per dotare gli studenti di una residenza provvisoria ma sicura e dignitosa.